Per me si va nell'omeandro dolente, per me si va nell'eterno taroccamento, per me si va nei perduti frebucattoli. Dete che l'intro stile Divina Commedia era un po' troppo sopra le righe? Beh, ed altronde l'argomento di cui parliamo è cosa seria e bisogna dare la giusta importanza a... I FRIBUTER GIOCATTOLI! I FREBUCATTOLI! Abbiamo tutti amato i Cavalieri dello Zodiaco, i grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, no? Niente, mi è partito il momento canterino, sorry. Dicevamo, come è successo per altre serie, i giocattoli gadget di questo anime sono numerosissimi e alcuni sono veri e propri pezzi da collezionisti, toccando cifre, diciamo, importanti. E secondo me questo lo possiamo annoverare senza dubbio fra gli oggetti per i collezionisti. Sì, i collezionisti di schifezze. Innanzitutto fatemi capire perché la necessità di mettere un rossetto a Fenix e fargli indossare questa calzamaglia che, non so come dirlo, gli dà l'effetto da campione indiscusso di bevitore di birra. Gli fa l'effetto panza. Poi vabbè, gli occhi sbarrati in modi supposta improvvisa sono un must per questo tipo di frebucattoli, per non parlare della posa rigidissima. Qui, più che ALI DELLA FENICE, questo giocattolo sembra urlare Ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Cosa? Più o meno tutti noi abbiamo giocato almeno una volta con quei set che vendevano sia nei negozi di giocattoli ma soprattutto in edicola e avevano vari temi. Da quelli del cibo, passando ai classici delle armi giocattolo, con una grafica rigorosamente trash che persino il mio falegname sbronzo con 30.000 lire, la faceva meglio. Ecco, dopo quello del gradiatore di una puntata precedente, oggi abbiamo questo magnifico set di fuoco che, come si evince dal nome, è a tema appunto Vigili del Fuoco. Ma ammiriamo i dettagli di questo prodotto. I due personaggi disegnati sulla confezione sono chiaramente gli omini dei filmati di sicurezza che chiunque lavori si è dovuto assorbire almeno una volta. Io tipo 27 volte. Poi le scritte che dovrebbero incoraggiare all'acquisto sono favolose. Nuovo stile così bello! Super strumenti! Massima potenza! Fatemi poi capire cosa c'entrino col mood da pompieri un cacciavite, una brugola e una vite. Le avranno messi lì perché avanzavano dal set del carpentiere? Ma torniamo agli amatissimi supereroi, i quali, soprattutto nelle loro avventure cartacee, hanno spesso cambiato i colori e gli stili del loro costume rappresentativo, legandosi a un particolare filone di narrazione, contraddistinguendo così quel determinato periodo, pensate per dirne una, al costume nero di Superman. Ecco, io non sono ferratissima delle avventure cartacee dei supereroi, quindi magari qualcuno tra di voi sa dirmi quando. Esattamente, Batman indossò un costume rosa. Che poi io dico, con tutti i colori esistenti al mondo, mi vai a scegliere proprio il rosa? Per questo personaggio? Che per andare in giro di notte a combattere la criminalità, è una nuance perfettamente azzeccata. La confezione poi è palesemente priva di accessori, quindi perché le manine prensili? Ah, e ovviamente un plauso per gli immancabili Power Ranger a caso, buttateli sulla confezione. Torniamo nel mondo dei Masters of the Universe, perché dopo He-Man, versione Mi Scappa la pipì, e Skeleton di dubbio gusto, abbiamo questo, che mi risulta un po' difficile da commentare. Dalla confezione sembrerebbe un frebucattolo coreano dal nome Principe dell'Universo, per fa' prima. Ma Santa Polenta quant'è brutto! Sembra uno di quei robottoni anni 80, ma in versione, tra virgolette, umana, e che fa sorgere ancora più dubbi su chi esattamente abbia pensato che fosse una buona idea produrre sta roba. Rituffiamoci nel mondo Disney con Zootropolis, un film, direi, carino e divertente, del quale ci ricorderemo in primis, sempre solo del Bradipo. Protagonista morale del film. Essendo Disney non potevano mancare i gadget, quindi, hey, eccovi qui, due figure dei protagonisti davvero bellissimi. Beh, Nick ha un'espressione a metà di uno che si è fatto una canna potente, è incavolato con un suo collega o ha dormito poco. E Judy ha uno scompenso di braccia posate sui fianchi e una colorazione degna dei coloristi più scazzati disponibili sulla piazza. Un oggetto imperdibile nelle vostre collezioni. Proprio. E chiudiamo, come al solito, con un frebucattolo di Sailor Moon. Stavolta, però, dobbiamo dimenticarci delle atmosfere bambolesche, bucoliche, delle varie Planet Girl, Moon Power e così via. Perché si fa sul serio con Beauty Fighters. Abbiamo, infatti, un set di combattimento potentissimo tra le guerre Sailor e le loro acerrime nemiche, che sulla confezione sono le sorelle persecutrici della seconda stagione, mentre poi, nella scatola, ti mettono il quartetto delle Amazon della quarta stagione. Ma, vabbè, dettagli. Mi dispiace non aver trovato un'immagine a maggior risoluzione, altrimenti vi avrei fatto vedere nel dettaglio i vari personaggi ai limiti del lollo per non parlare poi delle pose super plastiche, plasticissime. Siete pronti a combattere in nome del disagio? E si conclude il nostro appuntamento fisso con i frebucattoli. Se vi va, come al solito, fatemi sapere nei commenti qual è stato l'oggetto più arg a questo giro e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Se volete assicurarvi che il vostro gatto non sia un freebooter felino, provate a fargli le coccole. Se alza il sedere quando gli ingrattate il culetto, vuol dire che è un gattone al 100%. Vabbè che in generale se amano le coccole sono felini certificati. E se vi si piazzano nel letto facendovi stare scomodissimi. Beh, ma l'argomento di cui pammiamo è importato. Abbiamo tutti armati i cavalieri dello zodiaco e non avevano bisogno di armi. Menavano come fabbri così. E secondo me questo lo possiamo tranquillamente annovelare tra le classici delle armi giocattolo rigolosamente ti pare? Golosamente. Sono i cavalieri e i cavalieri dello zodiaco hanno nomi importanti sono grandi e forti eroi. Chi lavora si è dovuto schiroppare almeno una vo. Sì. Schiroppare. Li avranno messi lì perché avanzavano dal sette capientiere? Che si è dimenticato la R? Ma torniamo agli ammatissimi supereroi che raddoppiano le M. Così, a buffo. tutti decisi a vincere ma solo uno alla fine potrà trionfare. Per muoversi di notte e combattere è proprio la nuansidea combattere la criminalità. Mi sono persa un pezzo. Andiamo nel mondo dei ma... Oh, sì. Andate attraverso la saliva. Visione umano. Il che a destra ha ancora più dubbi su... No. Ma solo uno alla fine potrà trionfar. Fin Disney non poteva essere privo degli ammessi gadget. Ammessi dove? Eh? Prayer Sailor e le loro acerrime nemicle. Eh, va bene. Hashtag nemicle. Pararana. Grazie a tutti.